Saranno operative già da domani le nuove sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia. L'accordo in questo senso è stato trovato nel corso della riunione degli ambasciatori dei 28. La decisione arriva in un momento in cui il clima pareva rasserenarsi con la tregua, il cui sostanziale rispetto era stato confermato appena ieri dal presidente ucraino Poroshenko. Risale a ieri anche l'inizio della riunione del Coreper, ma gli ambasciatori dei 28 avevano poi deciso di proseguire oggi per consentire, avevano detto, una valutazione più approfondita della situazione sul campo. La Germania assisteva per un'applicazione immediata, altri paesi erano più prudenti. Alla fine è stata decisa la pubblicazione, già domani, sulla Gazzetta Ufficiale Europea.